Lui solo non si trosse il cappello, appunto il titolo del libro, che è una biografia di Ettore Tibaldi, personaggio fondamentale per la storia della Val d'Ossola, perché logicamente lui è legato all'ospedale San Biagio, è stato direttore per decenni dell'ospedale San Biagio di Domo d'Ossola, ma soprattutto, almeno qua sul territorio, è conosciuto perché è stato lui il presidente della giunta provvisoria di governo della Repubblica Partigiana dell'Ossola, quindi personaggio chiave nella storia del Novecento Ossolano, nella storia della Resistenza Ossolana, e oltre a questo, oltre alle vicende biografiche, c'è un po' tutto anche la storia del contesto Ossolano, quindi quello che succedeva nel frattempo a Domo d'Ossola, nelle Vali Ossolane, mentre lui esercitava la sua professione e organizzava la Resistenza e stava iniziando appunto a ideare la Repubblica Partigiana, quella che diventerà la Repubblica Partigiana dell'Ossola, fino poi agli anni della vecchiaia e della maturità, quando Ettore Tibaldi è stato senatore della Repubblica, quindi ha rappresentato in qualche modo gli interessi della Valdossola nel Senato della Repubblica, arrivando fino a ricoprire la carica di vicepresidente del Senato. Sono contentissimo del riconoscimento, che è un riconoscimento prestigiosissimo, che è stato assegnato in anni passati a personalità veramente di altissimo livello, penso soltanto a Angelo Del Bocca, che è uno storico fondamentale, un caposcuola nel suo settore, quindi una grandissima soddisfazione avere questo riconoscimento da storico, da ricercatore e da Ossolano soprattutto. Questa sera abbiamo il piacere e l'onore, finalmente, con un leggero ritardo dovuto a cause di forza maggiore, abbiamo l'onore e il piacere di consegnare al dottor Andrea Pazzetta il premio della Repubblica Partigiana dell'Ossola, è un riconoscimento più che dovuto, considerato l'importante opera di ricerca, lo studio che ha portato alla stesura del libro dedicato alla vita di Ettore Tibaldi, un personaggio chiaramente importantissimo per la storia del nostro territorio.